Ciao, eccoci di nuovo su Buyer's Line. Oggi parliamo di procurement per commessa, definizione e gestione. Vuoi saperne di più? Allora segui il video fino alla fine e supporta il nostro canale! Il procurement per commessa è una delle gestioni più sfidanti nella supply chain. Mai come in quest'ambito, bisogna essere reattivi e proattivi nel cogliere le opportunità del momento e le occasioni che il mercato ci mette a disposizione. Ma come può l'ufficio acquisti affrontare questa sfida? Non perdiamo altro tempo, iniziamo! Procurement per commessa. Cosa significa? Quando un ufficio acquisti lavora a commessa, ogni attività strategica o di approvvigionamento è volta a soddisfare le esigenze di uno specifico prodotto, opera o servizio, richiesto da un determinato cliente. Il che significa che tutte queste richieste potrebbero non essere ripetibili in futuro, con i conseguenti rischi dovuti ad un'eventuale sovrapproduzione. Il procurement deve quindi rispettare scrupolosamente i budget definiti nel documento di commessa, che viene redatto in fase di stipula contrattuale e che deve essere discusso con il project manager. Con le opportune analisi, però, anche in questo specifico settore si possono creare delle ottimizzazioni. Procurement per commessa. Come gestire il budget? La via principale è quella di analizzare e preventivare correttamente quanto richiesto, offrendone la giusta e corretta marginalità, per fare questo, però, puoi avvalerti di un piano strategico. Eccoti passaggi fondamentali. 1. Analisi ABC. 2. Estrapolazione codici A commesse A. 3. Analisi gruppo AA. Ma perché analizziamo solo questo gruppo? Partendo dal presupposto che il tuo tempo sia limitato, dovrai concentrarti sui codici che sono maggiormente impattanti a livello di fatturato. Sicuramente, molti degli altri codici presenti nella Tailspend saranno delle varianti di questi e potranno essere inglobati con delle opportune analisi, fatto salvo per le eccezioni. Ma come analizziamo questo gruppo? Imposta dei driver che possano definire i vari componenti. Confrontati con ufficio commerciale e ufficio tecnico e ottieni la standardizzazione del maggior numero di prodotti. Se non la ottieni completamente, parzializzala. Rendi i fornitori specifici. Quando lavori a commessa, diventa fondamentale inviare e ricevere velocemente le risposte a richieste di offerta. Procurement per commessa. Come ridurre le tempistiche? Un altro tassello fondamentale di questa attività sono le tempistiche. Per comprendere al meglio, cerchiamo di suddividere le fasi del processo di acquisto. Da RDA ad ordine. Per ridurre il più possibile questa fase, devono essere innanzitutto automatizzati i processi. Come buyer, inoltre, dovrei pretendere il coinvolgimento nella fase iniziale del progetto, almeno per i particolari più complessi, in modo da anticipare eventuali colli di bottiglia. Per quanto riguarda ritardi di risposte dei fornitori e o lungaggini dovute alla contrattazione, questi devono essere ridotti dalla specificità. Approvvigionamento degli ordini. In questa fase, devi concentrarti su due aspetti, quelli interni e quelli ed esterni. Internamente, devi prestare attenzione alla parametrizzazione del gestionale, le time, scorte, punto di riordino, lotto di acquisto, e assicurarti la corretta ricezione dell'ordine. Esternamente, devi confrontarti con il fornitore per assicurarti ad esempio che abbia ricevuto tutte le informazioni, la corretta capacità produttiva, la materia prima, un eventuale previsionale congruo alla richiesta. Caricamento degli ordini. Può sembrare banale, ma questa fase può in alcuni casi riservare alcune criticità. Mancanza di documentazione e disallineamenti fisici e contabili possono essere all'ordine del giorno. In questo caso, purtroppo, l'ufficio acquisti può essere chiamato in causa per dirimere la situazione. Prevenire queste situazioni attraverso procedure collaudate ti aiuterà sicuramente a raggiungere il tuo obiettivo. Perfetto! Anche per questo video è tutto. Speriamo con questo breve approfondimento di averti fornito le giuste informazioni per poter ottimizzare al meglio la tua gestione del procurement a commessa. In ogni caso, facci sapere cosa ne pensi e qual è la tua personale esperienza nei commenti. Se vuoi avere maggiori informazioni, come sempre, ti ricordiamo di visitare il nostro blog e di leggere l'articolo dedicato. Se questo video ti è piaciuto, sostienici con un bel like, iscriviti al nostro canale e per non perderti i prossimi video, attiva le notifiche. Arrivederci e nel frattempo continua a seguire la linea dell'acquisto efficace. Segui Bayer's Line!